Allora, eccola qua, abbiamo il piacere di avere qui un bel personaggio, Ida Piccola. Ida, da te io vorrei i saluti a tutto il pubblico di Cantiamo Napoli ad augurare a loro una buona estate, perché questa trasmissione andrà per tutta l'estate. Oh che bello, quindi io vi auguro di trascorrere queste buone vacanze, queste belle vacanze tanto attese con i vostri familiari, con le persone alle quali tenete molto, quindi come me, prendete il mio caso, io non vado in nessun posto, la vacanza me la prenderò a settembre, quando tutto il lavoro terminerà per noi, quindi staremo un po' in stand-by per goderci poi una settimana meravigliosa in qualche posto del mondo, chissà dove... Ma naturalmente seguendo Cantiamo Napoli. Allora, io anche dall'America seguo Cantiamo Napoli, quindi seguitele sempre, gli artisti che ruotano sempre qui in questa magica location, in questa bella musica partenopea, in questo bel scenario, con Alfonso Criscuolo, con tutti voi ragazzi, non mancate, veniteci a trovare anche qua, mi raccomando. E allora, buona estate e soprattutto, Cantiamo Napoli!